L'Associazione Animalia, da sempre impegnata a sostegno degli animali nel Pesarese, ha un nuovo presidente, ovvero Andrea Marchionni, già consigliere comunale nella scorsa legislatura, che da oggi sarà impegnato a guidare lo storico gruppo che per tanti anni ha sostenuto il gattile di Pesaro. L'Associazione Animalia ha rinnovato i vertici alla fine di giugno scorso, sono stato eletto con molto onore da parte mia presidente, al posto di missionaria presidente Gagliott. Quello che noi ci proponiamo è sicuramente di incrementare il numero di associati e di poter contribuire ancora di più alla benessere degli animali, e quindi in particolare a risolvere, o perlomeno a contribuire a risolvere il problema del randagismo felino, che negli ultimi anni sta imperversando nel territorio non solo comunale di Pesaro, ma anche di tutto l'entroterra. Non cambiano solo i vertici di Animalia, ma cambia anche la gestione del gattile, che non sarà più affidato all'Associazione, come ci spiega lo stesso Marchionni. Il gattile era stato gestito per oltre 20 anni, 23 se non erro esattamente, dall'Associazione Animalia, e questo fino a gennaio di quest'anno. È semplicemente successo che durante l'assessorato dell'assessore Morotti, si è deciso che il Comune voleva dare in affidamento tutti i servizi del benessere animale ad Aspes, ad Aspes Multiservizi. E Aspes ha fatto poi a sua volta i bandi per far gestire le varie entità, come ad esempio anche il gattile. In effetti l'Associazione Animalia aveva chiesto da anni di poter lasciare la gestione diretta, perché era un'opera molto difficile, avendo solo volontari e non persone assunte. E quindi era difficile poter gestire tutta l'attività su tutte le ore e tutta la settimana, tutte le ore del giorno e della settimana. La soluzione che il Comune ha dato, in concordanza anche con l'Associazione Animalia, è stata appunto quella di darlo ad Aspes, la gestione, e la gestione poi a sua volta è stata data con un bando alla cooperativa T41B, che già gestisce il canile comunale da molti anni. Ma Animalia continua a dare il suo apporto attraverso i suoi volontari e volontari, che non dico tutti i giorni, ma comunque parecchie ore a settimana, si recano al gattile per poter, come dire, in maniera sussidiaria operare per il benessere dei gatti, per gli affidamenti.